L'ultimo colpo in ordine di tempo è accaduto a Ogliano, dove un'anziana è stata aggredita e derubata dell'orologio, un Rolex da 10.000 euro che aveva al polso. Era stato un finto carabinieri in borghese a suonare al campanello della donna. In manette è finito un 34enne residente a Vedelago, ma l'84enne potrebbe non essere l'unica vittima. Continuano infatti le truffe, che a volte si trasformano in rapine, ai danni delle persone più fragili, gli anziani. Fondamentale è il controllo di vicinato, spiega Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci. Il miglior antifurto è conoscere il tuo vicino. Purtroppo, spiega Paola Roma, in molti casi l'anziano non conosce neppure il vicino. Bisogna tornare ad aiutarsi e dare uno sguardo alla casa accanto. Le forze dell'ordine, la nostra polizia locale, il fatto che quando hai un dubbio comunque puoi chiamare il tuo comune, i servizi sociali, puoi comunque chiamare qualcuno che ha un punto di contatto di riferimento, credo che sia fondamentale. Non solo, ma se si notano persone a girarsi in zona e suonare i campanelli, bisogna allertare subito le forze dell'ordine. I comuni, continua Paola Roma, informano sempre se ci sono dei tecnici che girano in paese per dei controlli. Chiamare l'amministrazione o la polizia locale o le forze dell'ordine e rendere noto questo. L'appello rimane quello agli anziani di chiamare, in questo caso si era finto un carabiniere, però di chiamare anche se si ha un minimo dubbio. Certamente, chiamare anche se si ha un minimo dubbio, poiché la nostra polizia locale, che poi è sempre sul territorio e anche i carabinieri, sicuramente sono un punto di riferimento, ma anche i nostri servizi, perché ricordo che anche gli assistenti domiciliari che vanno nelle case ovviamente diventano un punto di contatto anche per dare delle informazioni che raggiungono l'amministrazione.